Allora, sono tornata dopo tanto tempo, ho cambiato look, come vedete voi ho cambiato look, poi mio fratello ha cambiato look Ci sono certi che dicono di alzare il volume, ma io lo alzo però non so se sentite Vedete il mio cambiamento che non so se è diventata grosso, non so come si vede dal video Il nostro soprannomio, come sono in tanti, sono Nicola, Pazzola Non ti capisci proprio di cosa, perché Pazzola già mi fa ricordare, e Nicola già mi fa ricordare Comunque, comunque, come stiamo dicendo? Non ti capisci Grazie a tutti. 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 Ma... ... 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